Io mi chiamo Carolina Caruso dal lato mio 15 aprile 1925, ma non ho un ricordo particolare perché noi da Comso siamo andati fuori perché c'erano i bombardamenti tedeschi, avevano occupato mezza casa che noi avevamo senza abitare e quindi era il pericolo dei bombardamenti e poi c'era stata la presa in Africa, quindi papà dice adesso, si supponeva che c'era lo sbarco lì, scoglitti, gela eccetera e noi siamo andati prima dallo sbarco a Mineo perché papà diceva e all'interno se il combattimento avviene, avviene solo, invece non è stato così perché lì sono entrati liberi fino alla piana di Catania, il combattimento e lo blocco per dare il tempo ai tedeschi di fuggire è stato nella piana di Catania, quindi noi abbiamo fatto male bene, quindi non abbiamo avuto un impatto di entrare gli americani a Comso, io non l'ho vista ma di soldati che scappavano ma papà era un esponente fascista, era federale, quindi l'avevano preso per portarlo a Priolo perché tutti i fascisti per portarlo a Priolo, però papà siccome era stato un uomo di molta socialità, carità, amicizia a Comso, c'è stato il farmacista, un amico di papà che era socialista pur essendo un amico di papà che ha detto per il comandatore Caruso rispondo io e allora l'hanno lasciato a papà a casa e andavo a fermare ogni sera che era a casa, doveva fermare per un certo periodo, invece molti, come già hanno rotto il dottor Ottaviano a causa di Ottaviano o padre di Renner, sono andate a Priolo e l'hanno preso gli americani per mancarli a Priolo certo